Deve firmare per questi, signor Keaton. Un orologio d'oro, un accendisigari d'oro o un pacchetto di sigarette. Grazie. Non abbiamo ancora niente, Dave. So quello che volevo sapere su Keaton. Cioè, niente? Non importa. Saprà che gli abbiamo sfiorato la coda. Kaiser Sose o non Kaiser Sose, se Keaton è vivo non si farà più vedere. Io lo scoverò. È una perdita di tempo. Se è una diceria, il vento se la porta via. Cosa? Niente. Sei un gran disordinato. Sì, ma è un disordine sistematico, Dave. Non ci capisci niente a guardarlo così. Devi guardarlo da una certa distanza. Vuoi vedere la vera confusione? Vieni nel mio garage. Non ci capisci niente a guardarlo. Convincimi. Dimmi ogni minimo dettaglio. Sai, quando facevo parte di quel quartetto vocale a scocchi... Dove hai questa gente cuia? Quello che dobbiamo fare è pensare, ripensare a tutto. Il mio clientele è molto grave. Briggs Marley. Non è così. Voglio solo sentire la tua versione. È tutto lì dentro. E sto dicendo la verità, lo giuro. Un tizio della California si chiama... Questo regalo dal signor Sose. Dimmi, Verbal. Che mi dici di lei? Il signor Redfoot non sapeva niente. Uno molto grasso. Come una balena era grasso. C'era un avvocato, Kobayashi. Quando lo raccoglievo in Guatemala, lo facevamo fresco il caffè. So che pensavi che fosse un tipo in gamba. Io so che era in gamba. Dimmi ogni minimo dettaglio. Una strana cosa. Come si fa a sparare al diavolo? Quel tizio è protetto molto in alto dal principe dell'eterno. E allora che dici, venditore ambulante? Qual è la tua storia? C'era un avvocato. Quale avvocato, Verbal? Io sono l'avvocato Kobayashi. 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 Dimmi ogni minimo. Io lavoro per casa sola. Convincimi. 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 Ogni malvivente schifoso che batte la strada per vivere conoscerà il nome di Verbal King. Lo zoppo, l'hai visto? Chi? Lo zoppo, da che parte è andato? Oh, è uscito di là. Io lo so che tu sai qualcosa. Io so che non lo sai. Io sono più scaltro di te. E scoprirò quello che voglio sapere. Che ti piaccia o no. Per un poliziotto la spiegazione non è mai complicata. Tu lo sai dove voglio arrivare, Verbal. Non c'è mai un arci criminale che valora. Ti credi di prendere in giro? Qualcuno che ha potere. Qualcuno in grado di pedinarci da New York. Sto parlando di Kaiser Sose. Lui è Kaiser Sose. Credi che uno come lui arrivi così vicino a essere catturato e rischi ancora? Sì, ma perché io? Perché sei stupido, Verbal. Perché sei storico. Io voglio sapere chi è lo lo sai. Chi è Kaiser Sose? Lo hai sempre saputo. Chi è Kaiser Sose? Se dovessi trovarmelo davanti... Non sento più le gambe. Kaiser. La prima cosa che ho imparato in questo lavoro, sai quale è stata? Come individuare una sessica. Mi hanno detto che hai lo zoppo di New York lì dentro. Sì. Ha fatto il nome di Kaiser Sose. Chi? Dopodiché penso che non ne sentirete mai più parlare. La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste e come niente sparisce.